Ragazzi un saluto dal vostro amato amatissimo Bianconero, come va? Come state? Spero benissimo la Juventus dopo aver vinto la Coppa Italia 1-0 contro l'Atalanta con i gol di Vlaovic, meritatissimamente la Dea, la Dea stessa, cioè l'Atalanta, ragazzi in campo, in finale d'Europa League contro i levecchiuse 3-0, sono contento, sono contento, sono contento, da Juventino abbiamo vinto la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma quest'ultima batte in finale d'Europa League levecchiuse che non perdeva da un anno e sono contentissimo, goto come un riccio e c'ho l'aeremocia ma non me ne frega niente, goto come un riccio ragazzi, perché è giusto che sia così, 3-0 tipletta di Lukman, un gol più bello dell'altro, il secondo gol, tunnel, destro, piatto, perfetto, perfetto e perfetto, vai a cagare Flimpong, vai a cagare Flimpong, veramente Flimpong, dopo la semifinale di ritorno contro la Roma, dal 2-0, 2-2, a fine partita ti metti a esultare, fai i guapparelli, fai l'accetto che ti fai, fai il ballettino, è normale perché poi scoppia la rissa, è normalissimo, e adesso ti sta zitto, ti stai zitto, devi stare muto, ti stai zitto e torna a casa, mangio una cama umile, vattene a dormire, con tutta la tua squadra, compreso l'allenatore, perché l'Atalanta veramente non vi ha fatto respirare, e sono contento, uno Juventino, uno Juventino, 3-0 Bologna, 3-3, sono anche contento per questo, sono euforico, ragazzi, veramente incredibile sta partita, mi ha emozionato tantissimo, il primo tempo da Dio, 10 lodi, il secondo tempo 100 lode, una laurea ai massimi livelli, una laurea calcistica, veramente questa Atalanta merita, merita, merita un successo, Gasperini, ottimo allenatore, già in Europa League, quando aveva sconfitto il Liverpool, l'Atalanta 3-0, in casa, 3-0 in trasferta, e poi ha vinto pure in casa, figuriamoci con i leri chiusi, abbiamo battuto la Roma, ma è andata a quel paese, è andata a quel paese, se ci fosse stata la Juventus, probabilmente, probabilmente, non voglio vantarmi, però la Juventus non si fa subire un gol, due gol, tre gol in una finale di Champions, una finale di Europa League, si è successo ragazzi, a Cádiz, è successo in Champions, che la Juventus ha perso delle partite così, si, ma in una finale, la Juventus è fredda, sa che non deve perdere, e c'è una difesa fortissima, come tante altre squadre italiane, tra cui l'Atalanta, l'Atalanta non è la Roma, l'Atalanta non è la Roma, con la Roma avete avuto la partita facilotta, anche se a ritorno abbiano fatto un mazzo così, in questa partita, la finale, l'Atalanta ha il trofeo, sul tetto d'Europa, e l'Elecchiusen a casa, Forza Dea, sempre così, possesso palle incredibile, Gasperini ha dominato dal primo fino al novantatresimo minuto, una squadra che ha imbambolato tutti gli avversari, questa è una squadra italiana, Forza Italia, Forza Atalanta, Viva la Coppa, viva tutto, l'Elecchiusen, ciao, ci vediamo!